I miliardi in arrivo dall'Unione Europea con il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, possono rilanciare in Toscana anche le zone montane. Di questo e della situazione in queste aree si è parlato agli stati generali della montagna che si sono tenuti al teatro della Compagnia di Firenze. Uno degli obiettivi perseguibili grazie al PNRR è quello di contrastare lo spopolamento delle zone montane. Servono progetti esecutivi e piani di lavoro pronti. È un territorio fondamentale, il territorio montano, le aree interne, è un territorio fondamentale anche per le aree più densamente urbanizzate. Ormai i cambiamenti climatici, gli eventi e anche un po' il Covid ci hanno dimostrato che se non mettiamo molta attenzione sulle aree montane, sulle aree interne, anche le aree a valle ne soffrono e ne soffrono molto. Quindi una politica per la montagna, che sia una politica naturalmente trasversale, è indispensabile. La vicepresidente regionale ha sottolineato che nei comuni deve essere incrementato il personale tecnico per poter preparare i progetti. La riflessione sulla montagna è stata portata avanti insieme ad Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Cosa chiedono i territori? I servizi, innanzitutto, a partire da quelli economici, quindi lo sviluppo delle infrastrutture che servono alla montagna, ognuno ha le proprie peculiarità, il casentino ha delle necessità diverse, la garfagnana che a sua volta ha necessità particolari rispetto all'unigiana, ma ti chiedono tutte infrastrutture, pensiamo per esempio alla banda larga e alla possibilità delle infrastrutture digitali, ma anche la possibilità di raggiungerci. E poi collegamenti veloci, anche tramite il trasporto pubblico, politiche di incentivi per quanto riguarda per esempio la scuola e la capacità appunto di avere la possibilità di muoversi anche attraverso la riorganizzazione del tessuto scolastico. Tante le iniziative da poter mettere in campo per preservare e valorizzare queste aree che rappresentano circa il 70% del territorio regionale. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.